Il vizio di scaricare i chilometri di un'auto usata è una pratica disonesta che non sembra essersi affievolita. Lo dimostra l'operazione congiunta di Guardia di Finanza di Prato e Polizia Stradale che ha portato a denunciare nove persone fra rivenditori e titolari di auto-officine accusati di aver ringiovanito le vetture per venderle al meglio sia a privati sia ad altre concessionarie. I nomi delle persone denunciate non sono stati resi noti dagli inquirenti che hanno anche sequestrato 32 autovetture poste in vendita con chilometri percorsi non veritieri e individuato altri 15 veicoli venduti all'ignara clientela con il contachilometri in manomesso. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Laura Canovai. Gli uomini della Polizia Giudiziaria hanno operato sul territorio della provincia facendo emergere questa pratica di frode in commercio e individuando in particolare un'auto-officina pratese che si prestava alla materiale manomissione dei contachilometri. Per fare questo venivano utilizzati software piratati delle maggiori case automobilistiche internazionali e strumentazioni tecniche di pregevole fattura coinvolte anche due concessionarie pratesi rivenditrici delle autovetture usate.